Ivan, quindi tenendo presente quello che ci stai dicendo adesso, quali sono i meccanismi psicologici che ci tengono attaccati ai nostri dispositivi tutto il giorno? Insomma, come mai ci piace stare così tanto su internet? Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. Una delle grandi ragioni, e qui usciamo dal discorso patologico, dipendenza, eccetera, eccetera, una delle grandi ragioni è che ormai attraverso il cellulare facciamo tutto. Questo molto semplicemente, ecco, molti detrattori del digitale del cellulare, ad esempio dello smartphone, dimenticano questo fatto, ossia che non è solo l'utilizzo spasmodico del cellulare, non è tanto quanto io uso il cellulare, il famoso screen time, non è tanto quello, ma che cosa io faccio con il cellulare? Ok, la gente che mi conosce mi vede che sto sempre sul cellulare, eh, d'accordo, però una volta ho letto un pezzo di ebook, un'altra volta ho gestito delle email di lavoro e via di questo passo, quindi insomma, ok, questo soprattutto quando poi analizziamo questo fenomeno con i nostri ragazzi, qui è ancora peggio come discorso, ok? Quindi questo sicuramente, questo è un elemento sicuramente. Poi i meccanismi psicologici, c'è poi, come ho già accennato prima, tutto l'aspetto dell'esperienza utente, proprio, si chiama user experience design, proprio perché sono esperti che letteralmente disegnano le varie piattaforme, i giochi, anche lo strumento in sé, il dispositivo, per fare in modo che le persone ci stiano più tempo attaccato. Business is business, ecco, nel fare questo sfruttano appunto dei trucchi della nostra mente, ad esempio il famoso like è uno di questi, per dire, oppure anche molto più semplicemente il fatto che Facebook prima, quando ricondividevamo un post, c'era semplicemente ricondividi, poi noi o scrivevamo il testo oppure mettevamo invia, condivide, via, ad un certo punto hanno aggiunto un'altra opzione, condividi ora, e sotto c'è condividi scrivendo una roba di questo tipo, per cui cosa succede? Mi da Facebook, è furbo ovviamente, mi ha addirittura inserito un'opzione per condividere al volo sulla mia bacheca un post, senza avere bisogno di un doppio passaggio della scrittura di un testo e così via, quindi questo è solo un esempio, quindi sicuramente queste piattaforme spingono all'utilizzo compulsivo. Poi c'è sicuramente il desiderio di rimanere in comunicazione, il desiderio di comunicare. L'uomo è animale sociale, e questo lo diceva già Aristotele un po' di tempo fa, e questo è rimasto. I social network in realtà vanno ad inserirsi all'interno di questa nostra, potremmo dirla, attitudine che è innata nell'essere umano, ma anche nei primati, quindi non solo in noi. Certo, e nella loro strutturazione poi cercano chiaramente di attivare il più possibile quelli che sono i nostri processi mentali, per restare poi attaccati, incollati a questi dispositivi e restare dentro la piattaforma. Esatto, anche il banalissimo, parlo sempre di Facebook, vabbè, perché è quello più famoso, sono due miliardi di persone, quindi... E poi diciamo già, Facebook ogni giorno aggiorna qualcosa alle tentatutte per tenerci più incollati lì, a me a volte mette così tenerezza per questo, perché sembra che non sappia più cosa fare per farci ricondividere, per farci scrivere, per farci reagire. Ad esempio, già da un bel po' di tempo, ti presenta i ricordi da ricondividere. Sì, sì, sì. Che lei dice, scusate, ma se io voglio ricondividere una foto di cinque anni fa, me la vado a cercare io. Invece no, ah, ricondividi, cinque anni fa. Però è carina questa cosa, questa iniziativa di Facebook. A me, per esempio, piace. È una delle poche cose di Facebook che, in qualche modo, ancora gradisco. Non lo tollero molto come social network e va bene, per ragioni mie, personali. Però, effettivamente, è vera questa cosa che dici, che coloro che stanno dietro alle piattaforme, studiano e disegnano poi le loro applicazioni per fare in modo di tenerci dentro al loro sistema.